Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog con il vostro iBooksus, io sono Samuel ed in questo canale parlo di fotografia pasaggistica, quest'oggi si va a Roma insieme a fotografia pasaggistica italiana e Emanuele. Si va, si va! Evento FP! Il Castel Sant'Angelo è fatta, anche con poche nuvole questa sera, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso direzione non si sa, ma lo vedrete. Fotografia pasaggistica italiana qui, dal nostro amico indiano, il quadre, Francesco Mariani e la regia di iBooksus. Un saluto agli amici di FP che hanno deciso di camminare, invece... Che arriveranno comunque prima di noi. D'alta classe comunque, ci deve distinguere. Questa è qualche meraviglia. Ed eccoci arrivati. Ancora lo stesso. Situazione sudata ma felice. In buona compagnia. Che rimette proprio all'acchio all'acchio. Parlo. La situazione è mortale. Non sa lo diciamo. Siamo solo noi di FP. I migliori. Eppure asci alla pulizia. È la prima giornata che si conclude con questa alba pianta. Sono queste cose belle di FP. Si deve pur mangiare. Ci stiamo dirigendo verso la piramide. Il piramide di cosa? Il napoleone? Di Cheope. Di Cheope. Molto bene. Andiamo. Piramide di Cestia e scie. Prima della notte. Qui e lì i nostri colleghi. Bene. Lo spizzicone l'abbiamo fatto. Adesso spizzichino. Ed eccoci qui al ponte spizzichino. Ponte Settimia. Spizzichino. Molto bello da questo lato. Vediamo dall'alto. Ed ecco qui la situazione dall'altro lato. Si va di sciere anche qui. E adesso spot definitivo, almeno per me, ovvero Piazza di Spagna, che dovrebbe essere proprio lì. Siamo qui a Piazza di Spagna deserta o quasi, diciamo quasi. Ci sono due persone, più io ed Enrico qui, siamo con me. E stiamo scattando adesso una panoramica in Mortal Nine. Vedremo come va. Ragazzi, anche questo spot Piazza di Spagna è concluso. Non c'è nessuno a parte me e Enrico qui. E torniamo da tutti gli altri ragazzi dell'associazione per concludere l'evento e salutarci. Poi ritornare alle nostre stanze, ripreparare i bagagli e riposarci un po'. Quindi, tutto finito. E sinceramente sono anche soddisfatto dello spot e delle inquadrature realizzate qui a Piazza di Spagna. Spot che dovevo e volevo, o volevo e dovevo, fare per forza. Adesso siamo sediati da poco, siamo belli carichi per una nuova nottata. La forza di bux. La forza di gravità, nella mia testa.